Ciao, ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi svuota la spesa, provo a sentire gli oggetti di alcune cose che ho comprato e quindi faremo una svuota la spesa in smr questa volta e non come sempre abbiamo fatto. Iniziamo subito il video, vi farò vedere alcune cose, non tutto ovviamente. Succo alla pera. 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 SucCE alla pera. Succo alla pera. Succo alla pera. Succo alla pera. Grazie a tutti. 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 Buonanotte.